Innanzitutto occorre che la nuova politica di coesione europea faccia leva sul territorio e la dimensione territoriale di questa politica di coesione, avendo la capacità di costruire una relazione tra le politiche settoriali che l'Unione Europea intende fare per corrispondere agli obiettivi d'Europa 2020. Da questo punto di vista è necessario un salto di qualità, prima di tutto dando agli Stati l'obiettivo di realizzare una politica di patti territoriali con gli enti locali e le regioni. Questa è la possibilità per realizzare effettivamente un salto di qualità. Cosa chiede in questa occasione di incontro con la Commissione all'Europa, la Regione Emilia-Romagna? Realizzare una politica di coesione che sia in grado di valorizzare le diversità territoriali. L'Emilia-Romagna è certamente un motore dell'Europa, siamo qui a presentare la nostra piattaforma tecnologica ed è bene che oltre le politiche di coesione per le aree più deboli che debbono recuperare ritardo vi siano investimenti sulle grandi direttrici di innovazione che consentono alle realtà forti di essere motore e di riuscire a svolgere quella funzione di traino dell'insieme dell'Europa. È questa sintesi che dobbiamo realizzare che sarà determinante se vogliamo raggiungere gli obiettivi di Europa 2020.